Art in a Bow Windows è la personale di Silvia Peruzzi a cura del circolo culturale Gino Severini e con il patrocinio del comune di Cortona. La mostra è ospitata nelle sale del teatro Signorelli. Di novità degli acquerelli che ho fatto ultimamente nella campagna toscana, Monteriggioni, Siena, un po' diciamo la Val d'Orcia, siamo un po' su questo mondo sempre così di campagna. E vediamo anche delle immagini che rappresentano alcuni fotogrammi cinematografici. Esatto, questa qua è dedicata alla strada di Federico Fellini, è un quadro che avevo dipinto l'anno scorso per una mostra al circolo artistico di Arezzo, dedicata a lui, bianco e nero per ricordare un po' insomma il mondo del cinema. E poi ci sono sempre queste rose che rappresentano Silvia Peruzzi. Ormai fanno parte della mia mostra, viaggiano sempre con me insomma, sono sempre in evoluzione, mi tengono compagnia. E poi ci sono splendidi ritratti di uomini e donne. Sì, sì, la ritrattistica è la cosa che comunque mi affascina di più, così, mi intriga proprio allo studio dell'anatomia, della fisicità della persona, insomma lo sguardo, si va più a fondo diciamo nel personale con la pittura del ritratto. L'esposizione sarà visitabile sino al prossimo primo settembre.